Ho iniziato Tiro con l'arco a otto anni. Il mio talento è cantare. Cioè, si mette per la volta su un palco a cantare a 15 anni. Ho suonato il basso per qualche anno. Ho fatto gli scout alle scuole media. La pubbia delle api. La mia passione che penso che mi rende unica è avere appunto un grande interesse verso la musica e il canto. Io vado a figura di Lanza. Ho iniziato a suonare il piano a 5 anni. Ho letto il mio primo libro a 3 anni. In un anno ho letto 250 libri. La passione per gli strumenti giapponesi. Ok, non ho letto più di 20 libri. La cosa che mi piace è ballare. Amo i quadro. Amo i disegni ma non so disegnare. Volevo studiare archeologia e non lo ho fatto più. Studo di aeroscienze e ogni volta mi pento. Uso spesso lo sport come sfogo, come rilassarmi a fine giornata. Non bravo in matematica. Quando non ho niente da fare mi informo sulla vita del serial killer. La mia passione è parrucchere. Sto scrivendo un libro. Uno dei miei più grandi sogni è diventare una cantante di fama internazionale. Mi piace andare a scuola. Non riesco a uscire di casa se non indosso qualcosa di nero. Mi piace viaggiare. Sono stato a Disney in Bari. Quest'estate ho visitato almeno tre capitali europei. Bari. Sono stata a Londra per tre volte. Ho visitato più di dieci volte in un anno Amsterdam. Non ho mai viaggiato. Grazie. 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 Grazie a tutti.